ragazzi siamo oggi in live per eh si scusate è che sto in live giusto fatemi vedere oh no eh un attimo ho sbagliato live vediamo questa e questa dovremmo starci un attimo ricarico fatemi vedere se sto in live no eh no la live streaming è un live no no oh dovrebbe essere questo sto in live fatemi vedere se sto in live no eh fatemi vedere se sto in live no eh un attimo ragazzi non ci sto capendo se sto in live no 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 è un problema mio di rete sto vedendo perché vedo che sto un pochino laggando ma provo a fermarmi aspettate dove chiedo al go sarà per internet si può essere una internet Sto in live Fatemi vedere Se sto in live Si Dovrei Sto in live No Fatemi vedere Se sto in live Si Sto in live Si Sto in live No No Ok Sto in live Sto in live Dovrei stare online In live Quindi Ragazzi Mi sono preparato Cloudfish Per farvi Le cose Sto in live Voglio vedere se Sto in live Dovrei stare in live Più che altro che ho rete Che va lenta Non è colpa C'erò Per fare le live Però Tenere due live Consecutive È un pochino difficile Comunque Tra poco Mi metteranno la fibra ottica Ok già Si è avviato il gioco Che volevo È un pochino Don Ma Regatta Un pochino Con Un pochino Ha Super Meat Boy Un pochino Un pochino Un pochino Guzz Un pochino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.